Siamo alla Men's Fashion Week e più nello specifico nello showroom di Alberto Moretti per la presentazione della sua meravigliosa collezione Uomo autunno-inverno 2014-15 Allora, una collezione molto particolare Day and Night denominata ma comunque sentiamo da Alberto che cosa ha da dirci di bello su questa sua nuova collezione che mostra tante ma tante novità Guarda, grazie, hai già iniziato, ho fatto un inserimento perfetto di quello che è proprio veramente l'idea di questa collezione, proprio di Day and Night, come hai detto e a questo ho cercato poi di portare avanti, se vuoi, visto un po' parafrasando nel mio stile Alberto Moretti, la parte, se vuoi, con cui io sono più nato che era quella che cercava appunto di essere un dandy style che è diventato insieme un mix e l'ho chiamato appunto dandy rock perché? Perché se vuoi nel giorno abbinamenti con la nostra mocassina di velluto e determinati look che sono più dandy e che di sera si mescolano con catene che possono essere vistosamente grandi oppure vasche anche del mocassino, quindi la parte sopra di un mocassino con una catena più o meno grande oppure anche tante infinite piccole che possono creare delle nappine o anche tante infinite piccole che coprono il sopra della scarpa questo è proprio per creare questo mix tra giorno e sera tra dandy e super rock ecco, questa era l'idea che volevo portare avanti sulla collezione e quello che ho realizzato su questa quindi diciamo una sorta di riattualizzazione e rielaborazione in chiave moderna di quello che è lo stile da sempre di Alberto Moretti non so, da due stagioni hai inserito le sneaker hai voluto questo, diciamo, il fatto di mettere questa catena come richiamo rocca anche sulle sneaker? sì, infatti parte dal mocassino più semplice per arrivare poi alla sneaker come piccolo dettaglio di lavorazione o anche come grosso dettaglio sopra la sneaker o sopra il tronchetto sneaker in maniera forte, alle volte addirittura anche col cavallino o con le zip quelle vistosamente grandi, volutamente grandi che magari vengono rifinite da una catena altrettanto e più grande ancora proprio per confermare e dare forza a questo tema che ho affrontato su tutta la collezione benissimo, grazie mille Alberto Moretti e andiamo a scoprire insieme le novità e i nuovi modelli della sua meravigliosa collezione grazie a voi grazie a tutti 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 grazie a tutti